gentilissimo amico otestè concluso l'opera su cui tanto mi sono profuso mi misi addietro e e spero di potervela mostrare al più presto e per avere un vostro parere in merito ma ma già lo so che il mio nuovo sito punto cloud spacca di brutto ecco l'indirizzo fammi sapere ciao nuovo dominio punto cloud la tecnologia cambia i domini pure a solo 99 centesimi all'anno vai su aruba punto it